L'uragano Patrizia, la peggiore tempesta mai registrata nell'emisfero occidentale, arriva in Messico e perde di intensità. Dopo aver toccato terra è stato declassato dalla categoria 5 la più distruttiva a quella 4 e infine a 2, abbastanza per innescare frane e smottamenti e ordinare l'evacuazione di 15.000 turisti dalla costa. L'occhio del superuragano, a un diametro di circa 10 km, ha toccato terra sulla costa pacifica dello stato di Jalisco. Non possiamo ancora abbassare la guardia, ha detto in tv il presidente messicano Enrique Peña Nieto. La parte più pericolosa del ciclone deve ancora entrare nel territorio nazionale. Chiedo ai messicani di rimanere vigili e di seguire attentamente le disposizioni delle autorità nelle prossime ore. Evacuati anche i comuni sulle pendici del vulcano Colima in attività nelle ultime settimane, il rischio è che le precipitazioni possano innescare colate di fango e detriti vulcanici. La Forza dei Venti spiega l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia è in grado di far alzare un aereo e mantenerlo in volo.